Ma cosa sta succedendo? Allora, noi innanzitutto vorremmo rivendicare i nostri ritti, nel senso che abbiamo i bagni che non sono nelle condizioni ottimali, quindi il bagno degli uomini, i nostri ragazzi non possono andare nel bagno. Poi come seconda cosa, quando piove, noi abbiamo il corridoio che collega le due strutture, sempre allagato. Alcune classi hanno imposto dei termosifoni, delle specie di condizionatori, però le classi sono troppo grandi e quindi non riescono a scaldarsi. e quindi giustamente i nostri studenti si sono lamentati e io e Ottavio, come rappresentante dell'istituto, ci siamo riuniti insieme e abbiamo deciso tutto l'istituto di fare questa specie di protesta per dire che comunque noi al nostro istituto ci teniamo e vogliamo che questo istituto sia nelle condizioni migliori anche noi per sfruttarlo e per viverci al meglio. Intanto avete sentito i docenti dell'istituto? Noi sì, abbiamo fatto innanzitutto una riunione tra noi studenti decidendo il da farsi e abbiamo comunicato questa nostra iniziativa agli studenti, ai professori che approvati o no, comunque noi abbiamo portato avanti le nostre idee. E cosa vi hanno risposto? Allora, alcuni professori erano favorevoli, altri un po' meno, però noi ci siamo uniti, l'unione fa la forza, si dice sempre così. Quindi noi ci siamo messi tutti insieme, gli studenti, abbiamo portato avanti le nostre idee andando, diciamo, col nostro spirito giovanile di riuscire a cambiare qualcosa. Giustamente in una scuola fare sciopero c'era una cosa che i professori non vogliono, però comunque ci hanno detto che dobbiamo fare le cose che noi crediamo siano giuste. Diciamo che la nostra protesta non va solo a livello della nostra istituzione, perché ovviamente, come ci è stato detto, per aggiustare i bagni ci vogliono dei fondi, quindi non dipendono solo esclusivamente dalla scuola. Quindi diciamo che la nostra protesta è un po' in generale per far capire alla città, quindi a Crotone, in che condizioni è il nostro istituto e che condizioni noi vorremmo che sia il nostro istituto. Quindi questa, diciamo, è una protesta in generale per dire alle autorità o comunque agli istituti competenti di fare qualcosa, perché noi teniamo la nostra scuola e vorremmo rivederla fiorire come un tempo. I bagni sono distrutti, non vi sono le porte, potremmo stare qui fino a domattina. Chi li ha distrutti? C'è un'indagine in corso! I docenti intanto che cosa vi hanno replicato? Di far valere i nostri diritti, rivendicare i nostri diritti, come è giusto che sia. Bagni rotti, muri ammuffiti e tante altre cose. Tutto e di più. Esatto. Intanto i docenti oggi che cosa vi hanno detto? Ci hanno detto di ovviamente renderci conto di quello che stiamo facendo e di non esagerare. Fino a quando andrà avanti questa protesta? Finché il preside non viene qua e sceglie di parlare con noi. Se dovesse venire poi informatevi sul risponso. Sì, certo. Ok.